allora buongiorno grazie a simonetta dell'introduzione allora io sono tommaso sansoni non credo di avere avuto modo di conoscere nessuno di voi perché l'ultimo anno è stato un po particolare diciamo però io sono un cosmetologo un cosmetologo che collabora con bella ormai dal 2019 e per la parte dell'educational perché proprio bella nella nella persona di massimo banini nel 2019 ha voluto iniziare un progetto di formazione per di alta formazione per tutti i collaboratori che prevedesse appunto un approfondimento forte sul sulla parte del care stamattina voi siete una sorta di esperimento per noi perché faremo una formula un po diversa rispetto al solito faremo una formula che proveremo a rendere un po più interattivo diciamo il corso e questo è semplicemente un assaggio diciamo di quello che andiamo a fare poi nei corsi in presenza nel nel mastercare parleremo soprattutto di cos'è un cosmetico e di e come è fatto diciamo di cosa è fatto come viene regolamentato e quali possono essere alcuni aspetti curiosi appunto del mondo del del cosmetico dicevo stamattina lo facciamo in maniera un po diversa dal solito vediamo se la cosa può essere più interattiva nei limiti diciamo di quello che poi è è l'online praticamente io farò delle delle mini sessioni ok in cui che dureranno circa 30 40 minuti non di più in cui voi avrete delle informazioni parleremo di tre argomenti diversi e alla fine di ogni sessione vi verrà proposto vi verranno proposte delle domande a cui voi dovete rispondere sono domande semplici non ci sono i voti non siamo a scuola e quindi in maniera molto tranquilla risponderete e poi commenteremo insieme le domande abbiamo dei tempi molto stretti tant'è che adesso come dire io concludo l'introduzione ed entriamo poi subito nel vivo del 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 webinar voi alle domande risponderete poi le commenteremo insieme e poi passeremo alla sessione successiva i tre argomenti che trattiamo stamattina sono il mondo della cosmesi naturale cioè vi spiegherò in maniera netta e precisa la differenza fra cosmetico cosmetico naturale cosmetico biologico cosmetico ecosostenibile così che abbiate chiaro poi di cosa si tratta a volte i confini so non sono così netti fra un una tipologia di cosmetico e l'altra però cercheremo di dare di mettere dei paletti poi parleremo di ingredientistica in maniera molto come dire molto grattando proprio la superficie perché sull'ingredientistica ci sarebbe da parlarne per un mese intero però vedremo tre soprattutto faremo tre focus fondamentali su tre tipologie di ingredienti che sono di forte attualità e che spesso generano anche delle discussioni parleremo di siliconi di parabeni e di solfati l'ultimo blocco l'ultima sessione riguarderà invece le possibili reazioni avverse cioè quello che un cosmetico può generare diciamo è che non vorremmo mai che succedesse ma che succede continuamente e vedremo alcune casistiche di reazioni avverse ripeto il tutto lo faremo dando vi darò delle informazioni per circa una mezz'ora poi avrete qualche minuto per rispondere a delle semplici domande allora aspettiamo proprio gli ultimi che stanno entrando e intanto condividerò tanto vi racconto io due cose due regoline tanto per lavorare insieme avere insomma più risultati possibile nella chat nel vostro dispositivo trovate la parte della chat qualsiasi domanda abbiate eh scriveteci pure nella chat così poi risponderemo appena possibile oppure alzate la mano eh sempre sulla parte delle reazioni laddove avete necessità di ehm avere delle risposte eh ogni come vi diceva Tommaso ci saranno ogni cinquanta minuti circa delle pause per permetterci comunque di bere un bicchiere d'acqua tomarci un attimo la sigaretta e rispondere alle domande eh quindi questo è insomma due regole veloci per lavorare insieme in questa giornata eh considerate che il termine è previsto prima dell'ora di pranzo quindi dodici e trenta tredici più o meno siamo in quel range di orario così e basta poi qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno chiaramente ci chiedete ok? Sì vi invito tranquillamente a postare in chat qualsiasi domanda vi venga in mente durante durante la spiegazione non vi preoccupate io sono uno dei sostenitori del non esiste una domanda stupida quindi fate pure le vostre domande esistono solo risposte stupide qualsiasi cosa vi venga in mente chiedete allora intanto io condivido lo schermo perfetto ultima cosa se dovesse cadere la linea ricliccate sul link eh che dove da dove siete entrati perché chiaramente con le connessioni a volte eh si possono avere queste questi imprevisti quindi basta cliccare e rientrare dentro vi facciamo subito rientrare ok? Allora se mi vedete con lo sguardo perso nel vuoto non è che sto guardando eh il muro ma ho io un altro schermo più grande davanti eh perché così io controllo meglio le slide quindi i miei occhi raguarderanno nel vuoto ma sono assolutamente presente con me allora io partirei immediatamente dal dirvi che cos'è un cosmetico durante i corsi in presenza tutte queste vedete che le le slide sono sono sotto forma di domanda perché eh quando quando potremmo rifare i corsi in presenza ci piace interagire e allora ogni ogni volta che passiamo da un slide all'altra eh facciamo una sorta di piccola domanda al quale insomma c'è di solito c'è una grossa partecipazione ehm chiaramente che poi le risposte le risposte esatte ve le do io e le commentiamo insieme dicevo partiamo subito da cos'è un cosmetico perché molti di voi magari non hanno la definizione di cosmetico sotto mano io eh inizio dicendo che la cosmetica è la scienza del cosmo della donna così ce la definiva Carl Krauss che era uno scrittore austriaco ed è rimasta una bella definizione il problema è che non è così semplice eh è molto più complicato di così ehm il cosmetico ha una regolamentazione tutta sua ha una regolamentazione che ehm adesso è una regolamentazione eh europea cioè noi siamo armonizzati con secondo il regolamento 12-23 emesso nel 2009 eh in tutta Europa allo stesso modo cioè noi non abbiamo più una legge italiana che regola il mondo del della cosmesi ma abbiamo una legge europea che è recepita allo stesso modo in tutti gli stati membri mh quindi quello questo per dire che quello che oggi può circolare sul mercato italiano può circolare tranquillamente sul mercato francese mercato tedesco e e via dicendo eh abbiamo tutti gli stessi parametri l'articolo 2 ci definisce in maniera netta e senza equivoci quello che è un cosmetico e l'andiamo a leggere insieme andiamo a leggere insieme perché perché è una definizione di legge e essendo una definizione di legge va letta eh in maniera esatta allora un prodotto cosmetico è qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano epidermide sistema pilifero capelli unghie labbra organi genitali esterni oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli profumarli modificarne l'aspetto proteggerli mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei allora sentite quante cose eh ci sono dentro cioè è una definizione ehm molto esatta cioè nel senso non lascia tanto spazio all'interpretazione scusate un attimo che tolgo le ehm allora scusate devo togliere gli ingressi se no mi dà un segnale sonoro ogni volta tanto li sto facendo entrare io eh ok perché sento continuamente il campanello si all'ingresso ok allora perfetto scusate l'interruzione dicevo la definizione è particolarmente esatta è molto come dire eh prende in esame diversi aspetti perché perché non si può in un articolo di legge lasciare troppo spazio all'interpretazione è chiaro che eh qualcosa eh rimane sempre fuori nel senso che eh se noi avessimo delle definizioni troppo stringenti poi diventerebbe un problema anche la creazione del cosmetico stesso però ci fa capire subito diverse diverse cose questa definizione prima cosa il cosmetico agisce su stati su strati esterni cioè noi possiamo agire sull'epidermide cioè quindi sulla pelle sul sistema pilifero ovvero sui peli e sui capelli eh possiamo agire sulle unghie possiamo agire sulle labbra eh possiamo agire sugli organi genitali esterni e anche nella mucosa buccale perché viene considerata una superficie comunque esterna non possiamo per esempio agire su delle superfici interne questo cosa significa che il cosmetico agisce su stati fisiologici cioè se ci sono delle lesioni sulla cute per esempio parliamo di una ferita di un taglio vi tagliate un dito voi potete eh assolutamente applicare un cosmetico e non succede niente ma non deve succedere niente nel senso che non potete usare un cosmetico eh che eh sia medicale perché la medicazione quindi l'agire su uno stato patologico quindi l'agire sul taglio è eh una prerogativa delle medicine quindi stiamo parlando di farmaci o parafarmaci eh che che dissi voglia non possiamo agire su stati interni come fa per esempio un un integratore un integratore alimentare lo ingeriamo e agirà poi sugli stati interni dell'organismo il cosmetico tutte queste cose non le può fare il cosmetico può agire solo sulle superfici esterne e che cosa può fare può mantenerle in buono stato le può migliorare le può profumare ehm le può proteggere può fare tante cose ma può anche modificarne l'aspetto quando parliamo di make up per esempio ma eh non può assolutamente alterarne lo stato fisiologico ok a questo punto definiamo un po' meglio passiamo subito a una categoria di cosmetici che è molto di di interesse ormai da da qualche anno ma il trend del naturale non accenna a diminuire anzi è destinata a crescere definiamo che cos'è un cosmetico naturale abbiamo detto senza ombra di dubbio cos'è un cosmetico eh proviamo a definire cos'è un cosmetico naturale vi anticipo che non esiste una definizione di legge che identifica il cosmetico naturale quindi proviamo a darla a noi in modo da darvi un un'idea di cos'è un cosmetico naturale eh i cosmetici naturali sono in genere quelli formulati con ingredienti derivanti da estratti vegetali vedete quanto è ampia questa definizione cioè questa non ci dice niente fondamentalmente va da sé cosmetico naturale quello fatto con ingredienti naturali ehm però ci aiuta intanto a dare una prima distinzione con che cosa con il cosmetico biologico o o ecobio chiamatelo come volete perché eh anche qui in realtà non esiste una definizione di legge i cosmetici e acobio sono formulati con materie prime vegetali ma provenienti per lo più da agricoltura biologica estratte con metodi non inquinanti e ricavate da fonti rinnovabili cosa significa il cosmetico naturale è fatto principalmente eh con derivati eh estratti vegetali va bene non ci interessa fondamentalmente l'origine di questi estratti il cosmetico biologico invece va a vedere l'origine di questi estratti vegetali e devono provenire da agricolture biologiche o almeno una grossa percentuale di essi deve provenire da agricoltura biologica quindi questa è la prima grossa differenza tra cosmetico naturale e cosmetico biologico l'origine degli ingredienti va bene si può fare un cosmetico cento per cento naturale allora qui ehm diciamo che mi piacerebbe poter essere in presenza per sentire le vostre opinioni eh perché su questo argomento veramente eh si diciamo così si sono scatenate le le peggiori discussioni del mondo ehm qualche anno fa ora fortunatamente non più venivano fuori anche dei claim assolutamente fuorvianti per non dire imbarazzanti eh su eh sui primi prodotti naturali diciamo che si affacciavano sul mercato e quindi c'era anche molto poca regolamentazione venivano lanciati dei claim assolutisti che veramente erano fuorvianti per per il consumatore allora la risposta ve la do io e i prodotti definiti naturali sono già considerati tali quando contengono circa il 10 per cento di sostanze vegetali pure alle quali si aggiungono dosi variabili di sostanze ottenute per trasformazione di sostanze vegetali in questo caso non c'è bisogno di certificazione ma basterà leggere l'inci allora traduco in parole povere considerate che in una formula di un cosmetico qualunque una gran parte della percentuale della formula eh diciamo è costituita dall'acqua in questo calcolo l'acqua quindi viene tenuta fuori cioè nelle quando si calcola la percentuale di naturalità di un prodotto non si calcola l'acqua per due motivi uno perché sarebbe fuorviante a livello di calcolo perché se io ho un prodotto per esempio prendo un prodotto classico molto acquoso un tonico struccante è un prodotto monofasico acquoso eh il 70 per cento l'ottanta per cento se non a volte anche il 90 per cento è acqua eh quindi sarebbe fuorviante nel calcolo e poi perché l'acqua è comunque un elemento naturale quindi calcolarla nel nella percentuale di naturalità non ha molto senso la si può escludere tranquillamente dando per scontato che l'acqua è naturale allora vi dicevo eh quando eh siamo in presenza di un cosmetico naturale che contiene già il dieci per cento di sostanze vegetali pure e ricordatevi pure alle quali poi si aggiungono delle percentuali che possono essere assolutamente variabili di sostanze naturali ehm trasformate e ora vediamo anche cosa sono siamo già in presenza di un cosmetico naturale vi ripeto sono percentuali indicative perché non esiste una definizione di legge che ci identifica in maniera univoca e inequivocabile cos'è un cosmetico naturale quindi queste sono delle indicazioni che diciamo così il mercato si è dato il mondo della cosmesi ha dato per cercare di identificare cos'è un cosmetico naturale come vi ho detto non c'è bisogno di certificazione se voi andate a leggere l'inci avete un po' di dimestichezza con qualche nome dell'inci eh potete vedere ehm se ci sono all'interno delle sostanze naturali se ci sono degli estratti vegetali o se il prodotto è fatto da sostanze per la maggior parte sintetiche eh faccio subito apro e chiudo subito una parentesi naturale non significa migliore in che senso eh non vorrei perché questa è una questione che è venuta fuori diverse volte nei nei nostri corsi non deve mai passare il messaggio che naturale sì sintetico no cosa significa naturale ha delle prerogative buonissime per qualcuno ottime per qualcun altro a qualcun altro potrebbe non andare bene si tratta di scelte che il consumatore il cliente fa in per se stesso ma deve essere aiutato e instradato dai consigli di un operatore professionale in questo caso eh dato che siamo diciamo così in salone il consiglio vostro dovrà essere sempre ehm mirato alle necessità del consumatore cioè voi potete far scegliere al consumatore dato che bella eh da veramente un'ampia gamma di scelta potete far scegliere ehm scusate che sono del telefono potete far scegliere il consumatore lo stile di formulazione che più preferisce ehm ripeto naturale non significa sempre migliore e sintetico non significa sempre peggiore questo perché è una sorta di eh luogo comune ormai quindi ehm ci sono degli ingredienti sintetici e dopo li vedremo anche che hanno delle proprietà eh soprattutto tecniche per il prodotto che sono abbastanza inarrivabili ad oggi per il mondo del naturale come il mondo del naturale ha delle proprietà e soprattutto cavalca dei principi che il mondo del del sintetico non può assolutamente eh pensare neanche di di eguagliare quindi io faccio sempre il confronto è come andare in un negozio e scegliere un abbigliamento sportivo o un abbigliamento elegante non è che uno è meglio dell'altro sono due alternative va bene ehm naturalmente oggi il trend eh del consumatore medio è quello del naturale molte volte anche in maniera abbastanza inconsapevole si dice naturale senza sapere né che cos'è né che cosa fa ma ricordatevi che il naturale per esempio può portare qualche reazione avversa in più il che non ci deve assolutamente eh scoraggiare i prodotti in in commercio sono sono altamente sicuri però se ho una reazione avversa spesso è riconducibile più a un ingrediente naturale piuttosto che a un ingrediente sintetico il sintetico però di suo di contro per esempio non è dermo a fine ecco ci sono pro e contro in entrambi i sensi tant'è che i prodotti la stragrande maggioranza dei prodotti per non dire tutti i prodotti eh lavorano con entrambe le due filosofie sia naturale che sintetico i cosmetici biologici eh devono raggiungere solitamente circa il 70 90 per cento di sostanze vegetali pure dipende dall'ente certificatore cosa significa ehm vi ho detto che per quanto riguarda il naturale non c'è bisogno di certificazione eh il cosmetico si può autodefinire naturale chiaramente deve avere un'ingredientistica naturale all'interno e quando ne ha al almeno il 10 per cento in sostanze pure e poi una percentuale variabile in sostanze di derivazione di derivazione vegetale possiamo tranquillamente definirlo naturale il biologico a delle ehm come dire a dei confini molto più netti cioè il cosmetico biologico oltre a controllare l'origine di questi ingredienti naturali chiede una percentuale molto più alta che va dal 70 al 90 per cento e eh questa variabilità tra il 70 e il 90 per cento dipende da che cosa dal fatto che non non esiste un protocollo unico eh per quanto riguarda il cosmetico biologico ma esistono alcuni enti certificatori licea natru cosmos e colabel e via dicendo che certificano l'origine del prodotto cioè l'origine degli ingredienti che vanno a costituire il prodotto e poi certificheranno il prodotto in toto eh non hanno tutti gli stessi standard non hanno tutti gli stessi protocolli quindi può darsi che ci sia un ente che richieda eh delle cose e un ente che richiede altre cose sono tutti più o meno allineati però non sono tutti uguali questo è un po' un limite in questo momento della della legge eh diciamo che eh il bollino di certificazione è sicuramente un plus il mondo della cosmesi sta chiedendo un diciamo così una certificazione unica da anni ma non non ci stiamo arrivando ancora non ci arriveremo prossimamente detto questo ad esclusione di oli burri e basta un prodotto difficilmente eh sentite bene sì un prodotto difficilmente è naturale al 100% direi quasi impossibile non scriviamo che è impossibile perché ripeto ci sono degli oli e dei burri che possono essere considerati tal quali dei cosmetici cioè se voi prendete eh in casa un una bottiglia di olio di oliva che usate comunemente per cucinare e ve la spalmate addosso magari la gradevolezza lascia molto a desiderare ma la vostra pelle farà molto bene possiamo considerarlo un cosmetico va bene quindi è un cosmetico naturale al 100% se non gli viene addizionato niente è un cosmetico naturale al 100% la stessa cosa per esempio il burro di illipe o il burro di karité molto usato eh sono ma sono le uniche eccezioni per il resto qualsiasi cosmetico che trovate in commercio definirlo naturale al 100% è praticamente impossibile non esiste ancora un modello unico europeo come vi ho detto non esiste una certificazione unica però nelle nella cosmesi naturale tantomeno nella cosmesi biologica non si può eh utilizzare alcune categorie di ehm di ingredienti tipo vasellina paraffina i siliconi e i parabeni eh stessa cosa di anche per i solfati questo perché perché semplicemente non sono molecole naturali badate bene ripeto sottolineo il concetto non è che queste fanno male e quindi non ce le mettiamo no non sono naturali quindi non le possiamo mettere in un cosmetico naturale sono di di sintesi molecole di sintesi le possiamo mettere in un cosmetico non naturale ok cioè quindi non assolutamente non cadete nell'equivoco che eh se non le posso mettere in un cosmetico naturale allora sono ingredienti che non vanno bene no non è così allora abbiamo detto che eh per quanto riguarda il cosmetico naturale non sono richieste certificazioni per quanto riguarda il cosmetico biologico dobbiamo avere degli enti certificatori che invece certificano soprattutto l'origine delle degli ingredienti e allora eh come facciamo noi diciamo così a riconoscere a colpo d'occhio cioè noi inteso noi in questo momento mi pongo come consumatore io sono un consumatore che non sa niente vado in un negozio vado in un supermercato vado alla parrucchiera vado all'estetista in farmacia voglio comprare un cosmetico biologico e sapere con sicurezza che è biologico come faccio a riconoscerlo se non ho dimestichezza col vinci allora ci sono eh alcune alcune enti certificatori come ho detto che rilasciano la loro certificazione affinché un prodotto sia considerato biologico quindi non basta scrivere bio va bene sul come come prefisso come suffisso come pubblicità non basta assolutamente la parola bio in cosmesi scritta su una scatolina su un prodotto non significa assolutamente niente deve riportare il marchio di un ente certificatore accreditato presso il ministero della salute queste sono alcune alcune icone diciamo alcuni dei marchi che potreste vedere su qualche prodotto e riconoscere che il prodotto è certificato biologico sono alcuni perché ce ne sono tanti altri per esempio eh vediamo il primo Icea certificato ecobiocosmesi vedete Icea è il più eh l'ente certificatore più grosso in Italia anche più il più antico nasce come tutti gli anche gli altri enti certificatori nascono nello stesso modo come eh ente certificatore per il mondo agroalimentare perché perché la cultura biologica eh va diciamo così per forza di cose ehm va a interessarsi di come vengono coltivati di come vengono allevati eh cioè di come vengono trasformate poi eh le materie prime cioè non si può avere eh non lo so della lanolina che una volta si usava molto da allevamenti intensivi dice sì ma la lanolina è sempre uguale no dobbiamo avere degli allevamenti di ovini allevati a terra dai quali non viene fatto assolutamente nessun male viene poi eh diciamo fatto un processo di trasformazione assolutamente non non invasivo per l'ambiente insomma c'è c'è tutta una catena che che deve controllare un ente certificato aspettate ok mi era disattivato l'audio sì esatto ok sì perché deve essere stata silenziata tutta la tutta la lista ok adesso ci risiamo perfetto dicevo deve essere per forza controllata tutta la filiera di produzione quindi dal dalle colture agli allevamenti alla l'azienda che trasformerà poi il l'ingrediente per essere inserito all'interno dei cosmetici la stessa azienda produttrice verrà controllata per quanto riguarda eh diciamo sì il modello di lavorazione del prodotto c'è un controllo totale che parte però dai campi e dagli allevamenti quindi questi enti nascono soprattutto per quanto riguarda il mondo agroalimentare poi essendoci stata una necessità di mercato di certificare determinati prodotti in questo caso i cosmetici si sono adattate hanno adattato dei protocolli per il cosmetico c'è la più la più rinomata in italia ma insomma è perché è la più vecchia poi c'è bioagri certe poi c'è eco certe natru eco label a livello europeo è per le più grosse insomma ce ne sono questi sono esempi di bollini chiamiamoli così che voi potete trovare sui prodotti e essere tranquilli che sono prodotti che hanno eh rispettano completamente la cultura del biologico ok questo non lo è io è l'unico esempio che avrete diciamo da me eh per quanto riguarda alcuni prodotti presenti sul mercato ma è un è un esempio troppo lampante cioè non mi piace fare comparazioni però eh qui eh rende molto bene l'idea bio oil può essere il prodotto migliore del mondo ma non ha nulla a che vedere con il mondo del naturale cioè non possiamo secondo me qui se vi ripeto per me il marketing si è spinto un po troppo oltre ma non possiamo chiamare un olio bio oil quando nei primi sei ingredienti dell'inci cinque sono siliconi ripeto un olio stupendo un olio che funziona benissimo ma è fuorviante il bio oil non è assolutamente biologico non è assolutamente naturale è l'apoteosi del del sintetico il che può andar benissimo però è fuorviante secondo me nei confronti del consumatore va bene voi tenete a mente che quello che vi certifica sono questi bollini non sono queste diciture vi ho detto bio non significa niente fondamentalmente facciamo un ulteriore passo avanti adesso eh abbiamo parlato di cosmetico cos'è abbiamo parlato di cosmetico naturale e l'abbiamo un po definito perché non esistono definizioni nette di di legge abbiamo parlato di del cosmetico biologico e l'abbiamo identificato adesso c'è un'altra categoria che sta diventando veramente sta prendendosi gran parte del mercato e che cos'è un cosmetico eco epico ne avrete sentito parlare cioè noi considerate che tutto quello che riguarda il cosmetico lo lo rapportiamo a noi stessi cioè fa bene a me eh è efficace per me mi piace ma esiste anche l'ambiente cioè il mondo del cosmetico e soprattutto per quanto riguarda la filosofia del naturale non deve eh tutelare solo noi ma deve tutelare il più possibile anche l'ambiente e quindi è nato un nuovo filone una nuova filosofia di eh cosmesi che si sta facendo largo credetemi eh veramente in maniera importante un cosmetico eco etico o eco sostenibile chiamatelo anche qui come volete può definirsi tale se tutto il suo ciclo produttivo risulta sostenibile in tal senso viene posta molta attenzione ai materiali di imballo va bene materiali di confezionamento per garantire la massima salvaguarda dell'ambiente ci sono alcuni aspetti della catena produttiva che devono rispondere a determinati criteri come per esempio però vi ho detto che il cosmetico biologico va a vedere se l'origine delle degli ingredienti è biologica cioè arriva da coltivazioni biologiche allevamenti biologici e via dicendo qui siamo un un cioè l'asticella si alza ulteriormente perché non solo si va a vedere l'origine degli ingredienti ma si va anche a vedere dove andranno a finire dopo che li abbiamo utilizzati questi prodotti cioè come verranno riassorbiti dall'ambiente quindi verrà controllato che il packaging sia riciclabile riciclato o quantomeno biodegradabile addirittura ci si sta spingendo verso nuove frontiere in cui si cerca anche di eliminare parte del packaging eh si sta andando verso il famoso plastic free ancora non ci siamo perché perché non ci sono ancora alternative dal mondo del diciamo della ricerca del del packaging che ci possa permettere di eliminare completamente le plastiche eh però la direzione è quella e ormai è tracciata ehm cosmetici che hanno packaging eh che strizzano l'occhio fortemente all'ambiente hanno tutta una nicchia di clienti che veramente vanno a cercare solo quelli ok il co2 fingerprint questo che cos'è un nuovo concetto che riguarda le emissioni di co2 cioè viene controllata tutta la filiera e quando dico tutta intendo tutta compreso anche il produttore che produce il produttore che produce il legno per fare il il pallet dove mettere sopra i cartoni e poi si va a controllare lo spedizioniere eh che tipo di di trasporti di mezzi di trasporto utilizza cioè credetemi la co2 fingerprint è è una nuova concezione eh di di produzione cioè si va a controllare eh tutta la produzione di anidride carbonica durante il ciclo produttivo sia del prodotto che del packaging e questo come lo si fa ogni produttore che rappresenta un tassello nel ciclo produttivo del prodotto deve produrre dei documenti di certificazione che si attiene a eh determinati criteri per abbattere il più possibile le emissioni di anidride carbonica durante la produzione e del packaging e di quell'ingrediente eh la stessa carta lo vediamo anche eh l'uso di coloranti non inquinanti per gli inchiostri di stampa cioè si va a vedere veramente tutto ehm l'adesione a programmi di rimboschimento per i materiali cartatici usati sia da ehm nei packaging che eh nei cartoni di imballo e vi direi di più anche nelle brochure informative nella stampa di eh cartelloni cioè il programma FSC o FSC misto che è un bollino che viene riportato su su tutti i packaging laddove si aderisca a questo programma eh prevede che per ogni eh quantitativo di carta utilizzata ci sia un tot di alberi che vengono eh ripiantati guardate non è roba da poco perché il cliente che è attento a queste cose credetemi le va a cercare queste queste diciamo questi bollini di eh di certificazione il cruelty free scusa Tommaso eh sì tutto quello che è adesso elencato eh c'è da dire che forse è una sensibilità che sempre di più c'è oggi no quindi assolutamente sì da questa filiera di produzione di attenzione penso che sia forse giusto e che sempre di più ci sia no? Allora indubbiamente è un fenomeno in crescita fortemente in crescita è un fenomeno che le nuove generazioni che partono da movimenti anche di ambientalisti Greta Thunberg e via andare eh le nuove generazioni hanno veramente molta più sensibilità di noi probabilmente ma perché? Perché noi abbiamo lasciato un uno schifo parliamoci chiaro di ehm di rifiuti eh che derivano un po' dalla filosofia degli anni ottanta novanta in cui si si è cercato l'ottimizzazione delle produzioni a livello economico quindi eh materiali plastici che hanno sostituito tutti i materiali più costosi ehm però di pari passo non è andata avanti la la tecnologia di smaltimento eh chiaramente ad oggi ci troviamo a dei livelli di inquinamento eh insomma notevoli e quindi nasce tutto un altro tipo di ehm di movimento da lì anche il cosmetico ha cercato il suo adattamento ripeto non è facile oggi il plastic free nel cosmetico per non dire che ancora non ci riusciamo però la direzione vuole essere assolutamente quella così come compreso il cruelty free dicevo non ingredienti di origine animale o testati su animali eh anche se può sembrare scontato perché da oltre vent'anni non si fanno più i test su animali ehm non ci sono neanche ingredienti testati su animali però questo rappresenta delle eh diciamo così degli standard a livello europeo a livello occidentale cioè non tutti i paesi sono allineati con il cruelty free ecco cioè da noi è scontato cruelty free ma non ovunque è scontato eh si possono usare anche dei ingredienti di derivazione animale sempre meno nel mondo del cosmetico ormai sono rimaste veramente pochissime cose basta che non arrecchino danno all'animale vi faccio un esempio ehm la scera d'api la pappa reale cioè sono cose che si possono usare il miele non arrecchino danno certo se andiamo a prendere il grasso di foca eh va da sé che insomma c'è c'è assolutamente eh da mettere un limite eh e fortunatamente ci siamo arrivati certo è molto bello Tommaso perché come dici tu le aziende hanno una sensibilità sempre maggiore sotto questo aspetto e a me anche questo onora di Bella che insomma inizia con un percorso di di sensibilità sotto questo aspetto quindi ehm oggi l'ultimo nato we do proprio nel infatti della sostenibilità ho rimesso apposta la slide precedente perché tutti questi concetti dovrebbero far venire subito alla mente ehm esatto assolutamente l'ultimo nato di Bella che veramente devo dire che è un progetto è un percorso come tutto quello che è appena linkato tu quindi una grande attenzione a questo quindi ben venga sempre di più speriamo molte aziende che lavorano sotto questo aspetto eh ma vedrai che tu siamo arrivati alla frutta no? Sì sì chi non si allineerà questi concetti rimarrà indietro certo perché il mondo va in quella direzione quindi almeno per adesso non c'è nessun tipo di segnale per cui il trend del naturale dell'eco sostenibile non c'è nessun tipo di segnale che vada ad esaurirsi anzi ha ancora da esprimere probabilmente tutto il potenziale siamo solo all'inizio siamo solo all'inizio vero allora detto le caratteristiche di un cosmetico le caratteristiche del cosmetico naturale il cosmetico biologico e abbiamo visto anche le cosme le caratteristiche del cosmetico ecosostenibile scusate io sono toscano pronunciare tutte queste ci è difficile scandirle vediamo qual è la caratteristica che accomuna tutti i cosmetici i cosmetici hanno un'unica caratteristica devono essere sicuri va bene la sicurezza è al centro di tutto ancora prima dell'efficacia poi se un cosmetico è fatto meglio uno è fatto peggio l'altro è più efficace quello mi piace di più uno profuma l'altro mi piace meno l'odore questo non importa questo fa parte del del mondo del del cosmetico ma tutti i cosmetici prima ancora di essere efficaci devono essere cioè Grazie. Eccoci, l'abbiamo ritrovata. Eccola, l'abbiamo trovata. Sei silenziata però, Simonetta. Scusate, è saltata la mia connessione, perdonate. Ok, perfetto, non c'è problema. Allora, Simonetta, dicevamo, noi siamo arrivati alla fine della prima sessione, quindi somministriamo le tre domandine, così che vediamo quanto è stato chiaro il mio discorso. Perfetto, allora, condivido lo schermo e lancio il sondaggio. Ok, il sondaggio è su. Allora, io mi metto in mute, un attimo, e ritorno fra un minuto. Gli lasciamo cinque minuti, quello che è, e poi vediamo insieme le risposte. Ok? Ok. Ok? Ok. 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 Grazie a tutti. Rosy c'è qualcuno in sala d'attesa? Riesci a vedere tu un attimo? Sì, ok. Ok, io non riesco, sono da oggi un corso. No, non vedo nessuno Simonetta. Ok, avevo visto qualcuno prima in sala d'attesa. Ah, ok. No, no, non c'è nessuno. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Se avete domande scrivete anche nella chat se c'è qualcosa che volete avere come informazione in più. Facciamo ancora qualche minuto, Tommaso? Hanno votato. Allora, 11 e 23, 11 e 25, due minuti e li stacchiamo. Se poi condividiamo i risultati, facciamo una piccola pausa. Grazie. Ok, io direi che possiamo ripartire. Il sondaggio e condividiamo. A te la parola. Allora, i cosmetici naturali possono contenere sostanze di sintesi? Con piacere vedo che il 79% ha risposto sì e il 21% ha risposto no. La risposta chiaramente è sì. Possono contenere sostanze di sintesi perché, come vi ho detto, non esistono cosmetici naturali al 100% e contengono sempre una percentuale minima di sostanze di sintesi. Allora, diciamo così, spesso sono sostanze naturali con attaccate dei piccoli pezzettini di molecole di sintesi. Questo fa sì che non siano più molecole che si possono considerare naturali, ma al limite di derivazione naturali. Comunque, la sintesi, a me se considerate, per esempio, i prodotti naturali hanno molto bisogno di essere conservati. Ci sono i profumi, ci possono essere degli addensanti in percentuali minime, cioè ridotte proprio all'osso, e cercando di utilizzare quelle alternative di chimica di sintesi green, cioè di derivazione comunque naturale, che ci mette a disposizione il mondo della chimica. Però la risposta è indubbiamente sì. Cioè non possiamo utilizzare solo sostanze di derivazione naturali pure. Quindi sono ammesse piccole percentuali di chimica di sintesi. Un cosmetico biologico ha bisogno di certificazione, il 96% ha detto sì, c'è qualcuno che ha detto no, ma togliamoci ogni dubbio, il cosmetico biologico ha bisogno di certificazione. Chi non ha bisogno di certificazione è il cosmetico naturale, per definirsi tale. Un cosmetico con meno ingredienti è più sicuro di uno con molti ingredienti? Questa era una domanda, diciamo, più interpretativa, cioè nel senso che poteva essere più tra bocchetto. Però vedo che avete risposto bene, perché l'89% ha detto no e un 11% ha detto sì. Quindi, come vi ho detto sull'ultima slide, la caratteristica comune a tutti i cosmetici è la sicurezza. Quindi partiamo sempre dal concetto che se un cosmetico è in commercio ed è assolutamente, come dire, marchio CIE ed è un'azienda riconosciuta, ora non vi parlo di roba che si può trovare di dubbia provenienza, sono tutti cosmetici sicuri perché sottostanno tutti al medesimo regolamento. Quindi hanno tutti gli stessi standard. Per quanto riguarda la sicurezza, il nuovo regolamento è molto chiaro, è molto rigido e quindi i cosmetici sono sicuri tutti allo stesso modo. Dopo vedremo anche il fatto che possano dare delle reazioni avverse, uno sì e l'altro no, quello dipende da altro. Ma per quanto riguarda la sicurezza, quindi la sicurezza sia del prodotto, quindi la stabilità che il prodotto si mantiene, si conserva e non si sciupa nel tempo indicato dal conservante. E poi sono sicuri per il consumatore, cioè per quanto riguarda la ragionevole predizione, diciamo, di reazioni avverse, vengono minimizzate. Ci può essere il caso in cui il prodotto possa dare noia, ma questo non dipende assolutamente dal numero di ingredienti. Bene, detto questo, andiamo ad intaccare il nostro secondo blocco che sarà forse un pochino più impegnativo. Nel senso, ci saranno dei concetti, forse io cercherò di renderveli il più semplici possibile. Ma se vogliamo fare una piccola pausa? Senti, io la farei alla fine di questo blocco. La farei alla fine di questo blocco. Ok, lo mando un sondaggio con le altre domande? No, 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 prima spieghiamo. Prima spieghiamo. Perfetto. Prima spieghiamo, tra una mezz'ora, quando avremo finito, vi diamo magari più tempo per rispondere. Perfetto. E così ci mettiamo dentro anche un po' di pausa. E poi dopo, sul finale, magari, ci arriviamo un po' più lunghi su questa sessione, va bene, perché sul finale ci sarà una sessione un pochino più leggera. Adesso ci buttiamo a capofitto nella chimica. Per quanto riguarda il Master Care in presenza, tutti questi concetti che ora vedrete saranno, cioè, vengono approfonditi molto di più. Diciamo che, insomma, è una parte predominante del Master Care e viene fatta in maniera molto più ampia. Però stamattina vediamo alcuni input. Allora, ricondivido lo schermo. Allora, andiamo a vedere, come vi ho detto, nel secondo blocco avremo trattato l'argomento di ingredientistica e nello specifico prendiamo in esame tre tipologie di ingredienti che sono, secondo me, di particolare interesse, soprattutto per la vostra categoria. Allora, andiamo a vedere gli SLES o ESLS o solfati, come magari siete abituati a sentirne parlare. E fanno parte di una categoria molto più ampia, che sono i tensioattivi o sostanze lavanti, va bene? Allora, intanto vediamo che cosa sono i tensioattivi, che nel mondo del care sono forse la categoria più ampia a livello di numeri, cioè ci sono all'incirca 16.000 molecole tensioattive che un cosmetologo può utilizzare, quindi immaginatevi il range di formulazione è enorme. Vediamo che cosa sono questi tensioattivi. Vi leggo una definizione che ho scritto io, però poi ve la spiego. Allora, sono sostanze che abbassano la tensione superficiale di un liquido. Queste sostanze contengono molecole composte da una testa idrofila, per i solventi polari come l'acqua, e una coda idrofoba, affinità per i lipidi rifugge l'acqua. In questo modo presentano un equilibrio tra proprietà lipofile ed idrofile, e permettono di rimuovere lo sporco dalle superfici, come pelle e capelli. Adesso facciamo la traduzione in lingua corrente, va bene? Allora, guardatevi questo schemettino. All'inizio si dice che i tensioattivi sono sostanze che abbassano la tensione superficiale di un liquido, praticamente senza stare ad entrare nelle caratteristiche chimico-fisiche che vi descriverebbero che cos'è la tensione superficiale dei liquidi. Vi dico che l'acqua, se la mettete in un contenitore, in un bicchiere, vedrete che tende a fare, per esempio, i bordi all'insù, va bene? Perché le molecole dell'acqua tendono ad aderire alla superficie. Se voi prendete un altro liquido molto utilizzato, per esempio, che si vede bene, è il mercurio, ha presente i vecchi termometri a mercurio, che quando si rompevano, che cosa facevano? Sembravano delle palline di metallo, tende ad aggregarsi. Infatti, se lo mettete dentro a un bicchiere, il mercurio fa invece dei bordi all'insù, perché tende ad aderire, le molecole tendono ad aderire fra loro e a chiudersi in un cerchio, non alla superficie. L'acqua tende ad aderire alla superficie. Detto questo, noi dobbiamo abbassare questa tensione superficiale che c'è nell'acqua, perché se noi mettiamo, per esempio, il famoso acqua in olio, o olio in acqua, ancora meglio, se voi mettete dell'olio sull'acqua, che cosa fa questo? Galleggerà, non si mescola, perché hanno dei pesi specifici diversi, la tensione superficiale non viene abbattuta, e quindi non si mescolano. Allora, che cosa succede? Noi utilizziamo delle sostanze che ci aiutano a far mescolare due sostanze che non si mescolerebbero, va bene? Detta in parole poveri. Guardate questo schema. Allora, qui voi avete questa azzurra e l'acqua. Queste molecoline disperse sono le vostre molecole di tensio attivo, cioè di sostanza lavante, cioè di shampoo, ok? Questa grise che voi vedete è la sostanza sporca, che è lo sporco dei capelli, che può essere lo stesso sebo, ok? È una sostanza a matrice comunque grassa, va bene? Il surface è il capello. Ve lo propongo, diciamo, facendovi un esempio di quello che voi avete probabilmente tutti i giorni alle mani, ma la stessa cosa potrebbe essere la superficie di un mobile, la vostra pelle, cioè qualsiasi superficie a cui aderisce dello sporco. Voi vedete che lo sporco che aderisce al capello, seppure passandogli dell'acqua, non è che va via. Infatti se voi lavate dei capelli sporchi con l'acqua e basta, qualcosa togliete, ma la maggior parte della sostanza grassa rimane adesa al capello, cioè non avete lavato bene. Allora, che cosa succede? A un certo punto queste molecole, se voi aggiungete dello shampoo, della sostanza lavante, tenderanno con la loro coda, che è l'ipofila, cioè a questa parte della molecola piace il grasso, quindi va ad inserirsi con la sua coda nella matrice grassa, quindi nello sporco, e lascia la testa, che invece è affine all'acqua, libera nell'acqua. Piano piano, vedete, la forza di coesione delle molecole di tensio attivo, cioè di sostanza lavante, tendono a richiudersi, a formare un cerchio. Questo fa sì che, piano piano, essendo attaccate allo sporco, lo sporco tende a staccarsi dalla superficie, e lo sporco viene portato in soluzione apposa, cioè viene portato nell'acqua, e è tutto, come dire, cerchiato da queste molecole di tensio attivo. Questo processo si chiama micellazione, va bene? E vi aiuta a staccare lo sporco dalla superficie del capello, portarlo in acqua ed essere così lavato. Infatti, dopo un lavaggio, cioè dopo, diciamo così, l'applicazione dello shampoo, serve un risciacquo. Inizialmente, voi dovete inumidire il capello per far sì che, soprattutto, la sostanza davanti possa, come dire, muoversi meglio, possa sprigionare meglio le sue proprietà. Va bene? Perdonami, Tommaso, quindi tu hai parlato di micellazione, tutto. Quindi, se noi facciamo riferimento a dei prodotti che contengono acqua micellare, vuol dire che andiamo a pulire in maniera maggiore? In maniera importante. Cioè, voi considerate che le acque micellare, che siano per capelli, per cute, per la pelle, per il viso, il demachillage di solito si fa proprio con dei tonici, con delle acque micellare. Perché vengono sempre applicati, come dire, alla fine di un percorso di lavaggio? Perché sono quella parte che riesce a portare via tutti i residui, cioè anche quelli più ostinati. Laddove uno shampoo, magari noi abbiamo paura che possa non aver fatto tutta la sua azione, se usate un'acqua micellare, sicuramente andate a fare un'azione di rifinitura, cioè molto di fino, perché questo meccanismo di micellazione le acque micellari lo esprimono diciamo al meglio, ok? Noi abbiamo nel nostro, tra le varie possibilità in System Professional ad esempio uno shampoo con acqua micellare, proprio che ha l'obiettivo di andare a detergere in maniera più profonda sicuramente a rimuovere tutti i residui, a rimuovere tutti i residui anche dalla cute, cioè quando noi troviamo la famosa cute grassa oppure un capello particolarmente sporco, cioè se pensiamo che abbia bisogno di un lavaggio importante, le acque micellari sono una risposta, cioè la migliore risposta diciamo così allo sporco, allo sporco costinato, ora sporco costinato sembra di parlare di cucina, però è un po' la stessa cosa, il principio è lo stesso, il principio è lo stesso. Può esserci la necessità di una detersione più profonda per varie cause o per anche abitudini di detersione, quindi anche qui abbiamo la risposta con il prodotto. Sì, considerate per esempio vedete mi sentite sempre, non mi avete mai sentito parlare, usare la parola sgrassante, ormai abbiamo tirato in ballo la cucina, i detergenti per superfici, sono molto sgrassanti, molto di più di un'acqua micellare, di un shampoo, ma perché non devono tutelare la fisiologia della cute che ha bisogno di mantenere invece lo stato fisiologico del film idrolipidico, cioè noi dobbiamo portare via lo sporco, ma non dobbiamo delipidizzare completamente nei capelli e nella cute sennò facciamo un danno enorme. Lo sgrassatore non ha da tenere di conto che la padella ha uno stato fisiologico, niente, deve portare via il grasso e fine, quindi sono molto più forti. Il principio è lo stesso, ma un'acqua micellare tutela fortemente lo stato fisiologico del capello e della cute, pur rimuovendo efficacemente lo sporco, ma non non ti disintegra la cute e il capello. Ecco, ok? Lassai integra quella barriera necessaria che serve per proteggerci poi dagli agenti esterni. È la parte fisiologica, questo perché mi soffermo un attimo su questa cosa, perché io dico sempre essendo dei professionisti e noi stamattina ci rivolgiamo a professionisti, ok? Dovete imparare a parlare come dei professionisti, non usate mai la parola ti sgrasso i capelli, cioè non solo non si può sentire ma è proprio sbagliata perché noi non andiamo a sgrassare, noi andiamo a togliere lo sporco ma il grasso buono, chiamiamolo così, il prodotto cerca di lasciartelo il più possibile, ok? Chiaro che non può distinguere fra il grasso buono e il grasso cattivo, cioè fra lo sporco e magari il residuo di sebo che potrebbe anche rimanere, non può farlo il prodotto però se è un prodotto ben formulato, ben bilanciato porta via solo la parte grassa diciamo superficiale che è quella che poi rappresenta lo sporco e ti lascerà ad esa quel sottilissimo e impercettibile film idrolipidico che invece serve alla cute e al capello, ecco quindi il principio è non usate la parola sgrassare, mai, non si può sentire e vi squalifica come professionisti, ecco, io ci tengo a queste cose. Allora, detto questo, andiamo avanti, abbiamo più o meno capito adesso qual è il percorso, il processo di pulizia che fa il meccanismo che si ottiene usando una sostanza lavante, quindi una sostanza tensioattiva, ok? vediamo ora che cosa sono SLES e SLES che sono una piccola categoria di tensioattivi, cioè i solfati sono veramente pochissimi rispetto a tutto il range di tensioattivi che ci sono attualmente nei cosmetici. Allora, intanto vediamo per che cosa stanno queste sigle. SLES sta per sodium laurinsulfate e SLES sta per sodium laurinsulfate e le potete trovare in tantissimi prodotti, cioè sono strausati, ok? Sono dei tensioattivi molto comuni e usati da molti anni perché hanno un alto potere lavante e sono facili da inserire nelle formule. Voi considerate che a certo punto poi si possono usare tantissimi ingredienti, tantissimi tensioattivi, ci si possono anche inventare, però poi il formulatore arriva a un certo punto che li deve anche inserire in una formula magari con altri trenta ingredienti e allora il bel tensioattivo per stabilizzarlo può creare problemi. Ecco, questi non hanno problemi, quindi sono strausati, ok? Sono considerati tensiattivi aggressivi se utilizzati da soli, quindi per ovviare al problema e non perdere le loro proprietà lavanti, vengono spesso usati in combinazione con altri tensiattivi come per esempio le betaine che ne abbassano l'aggressività. Ora, perché io mi soffermo su questa piccola categoria di tensioattivi e vi voglio spiegare bene alcune cose, perché sono molto in discussione, sono stati spesso tirati in ballo in maniera anche come dire così, un po' cacciarona, va bene? Cioè, senza mai andare a vedere quelle che sono le caratteristiche vere di queste molecole e vi dico che un consumatore attento al naturale tenderà ad evitare prodotti contenenti SLS e SLEST perché seppur di derivazione vegetale subiscono lunghi processi di lavorazione in cui vengono addizionati di molecole di sintesi. Infatti il suffisso et, sodium lauret, sulfate, sta ad indicare una molecola di ossido di etilene che viene addizionata alla macromolecola del sodio, dell'acido laurico e il sodio solfato. Cosa significa questo? Il cliente che cerca il prodotto naturale e vi dice che vuole un prodotto senza SLS, ok, ci sta, va bene, avete tutti, in negozio avete tutta una gamma di prodotti per poterlo accontentare ma non è detto e qui sottolineo cioè non cadete mai nella discussione che con gli SLS fanno male senza gli SLS vanno bene. Sono scelte, ve l'ho detto all'inizio, cosmetico naturale, cosmetico sintesi, sono scelte. Io che ho una vocazione naturale, sono un consumatore che vado a ricercare il naturale magari vengo a chiederti lo shampoo senza SLS. io che sono un attivista ambientalista e oltre a volere il prodotto naturale voglio anche che sia rispettoso dell'ambiente magari ti chiedo il prodotto senza SLS e anche con il packaging biodegradabile cioè dovete individuare vedete interbravi individuare anche i vostri le vostre tipologie di consumatori. SLS non individuano una categoria di ingredienti che fanno male altrimenti non sarebbero in commercio sono tensioattivi molto lavanti che se usati in maniera sconsiderata e in prodotti di diciamo di bassa qualità possono inaridire il capello possono alla lunga creare problemi di pruriti alla cute ma usati troppo spesso in alte concentrazioni in prodotti di bassa qualità io non credo che voi in negozio abbiate queste tipologie di prodotti io mi riferisco soprattutto a prodotti di grande distribuzione a basso costo io non credo che voi vendiate questo tipo di prodotti se gli SLS li utilizziamo in una formula ben bilanciata magari con delle betaine come tensioattivi secondari cioè viene mitigata la loro aggressività ma viene mantenuto l'altissimo potere davanti che hanno ecco cioè dovete averli chiari questi concetti perché così sapete che cosa proponete ai vostri clienti non SLS sì SLS no ci sono pro e contro ripeto come vestirsi sportivo e vestirsi elegante c'è a chi piace in un modo c'è a chi piace in un altro non è che uno è migliore dell'altro passiamo ad un altro argomento molto dibattuto e che è di forte attualità e che presumo che non arriverà ad una fine la discussione sui siliconi non arriverà mai ad una fine allora intanto vediamo che cosa sono i siliconi allora anche qui vi leggo una definizione poi ve la traduco in italiano polimeri inorganici sintetici allora intanto qui stiamo abbiamo già detto tre cose importanti sono polimeri inorganici e sono sintetici quindi qui non ci piove qui il mondo del naturale ce lo scordiamo va bene non siamo in presenza di prodotti naturali sono idrorepellenti antistatici fotostabili resistenti all'ossidazione resistenti alle alte temperature e ve l'ho scritto un po' più grande perché questo ve lo dovete ricordare ve lo dovete stampare in fronte a chiare lettere sono inerti cioè non reagiscono né con la cute né con i capelli va bene non interagiscono non c'è interazione non c'è nessun tipo di modificazione biologica dalla presenza o meno di silicone la maggior parte dei prodotti professionali per restare l'air care contiene siliconi perché permettono performance di livello superiore e sfruttano le loro proprietà barriera per la protezione del capello allora vi ho detto i siliconi sono dei polimeri quindi sono delle molecole ripetute tante volte sono inorganici e sono sintetici ok hanno delle proprietà che servono tantissimo al prodotto infatti sono considerati degli ingredienti tecnici il prodotto voi potete rendere un olio più scorrevole voi potete fare una crema più leggera voi potete fare una maschera più o meno assorbente voi potete utilizzare i siliconi per migliorare le texture di qualsiasi prodotto voi provate a usare prodotti senza siliconi prodotti con siliconi per lisciare dei capelli io non sono parrucchiere non sto in salone non ho la manualità però lo so che un prodotto con siliconi ci rende la vita molto più facile ok detto questo i siliconi però non servono assolutamente a niente né alla pelle né ai capelli quindi allora questi siliconi è giusto usarli o non è giusto usarli anche qui abbiamo la scelta c'è una scelta ok guardate intanto queste due foto ora ve le spiego io ho detto che l'unica attività che viene riconosciuta ai siliconi su superfici vive cioè quindi pelle o capelli è la l'attività diciamo barriera cioè la proprietà barriera altrimenti sono inerti questa è una sezione cioè siamo nell'ordine dei micron vedete è un capello con delle cuticole alzate va bene guardate la stessa foto trattata con siliconi quindi praticamente ci sarà stato passato un prodotto un olio un finish quello che volete con siliconi guardate se il capello innanzitutto ha lo stesso aspetto voi riportate la cosa magari a livello macroscopico cioè visivo dei capelli che non stanno aperti magari dopo uno shampoo che invece tende ad aprire le cuticole passate un bel balsamo magari con un po' di siliconi e vedete l'effetto e poi essendo chiuse a quel punto non abbiamo necessità di aprirle per pulirle meglio o per far magari entrare del colorante o per far assorbire qualsiasi tipo di sostanza nutriente una volta che abbiamo fatto tutto il trattamento al capello e quindi gli abbiamo aperto le cuticole per poterci lavorare sul capello dopo il tutto va sigillato va chiuso e protetto ok per mantenere il più a lungo possibile guardate la differenza delle due foto senza siliconi guardate come stanno le cuticole con i siliconi l'apparenza di questi capelli sarà cioè dello stesso capello trattata con e senza siliconi sarà veramente diversa voi immaginatevi che qui siamo appena usciti dallo shampoo abbiamo fatto un phon e qui magari abbiamo applicato un olio lisciante e abbiamo fatto la messa in piega è chiaro che il risultato sul capello è diverso altrimenti non lo faremmo altrimenti i nostri clienti dopo lo shampoo direbbero va bene grazie sto bene così mi piaccio e me ne vado con una nuvola di capelli in questa maniera non funziona così quindi noi abbiamo bisogno anche di questo tipo di prodotti soprattutto in salone cioè soprattutto i professionisti ne hanno bisogno cosa sono quanti sono i siliconi allora i siliconi sono una birriade di di molecole che però principalmente vengono razzuppate in due grandi categorie che hanno funzionalità molto diverse ci sono dei siliconi a catena lineare cioè sono delle delle molecole lineari vedete questa parentesi vi fa capire qual è la molecola silicio ossigeno e due gruppi metile quelle dopo sono solo ripetizioni di questo di questa molecola cioè sono dei polimeri si ripete la stessa molecola tutto all'infinito ok e questi sono a catena lineare e solitamente sono un po' più pesanti vengono utilizzati sia in prodotti per lo skin care per l'air care prodotti come creme prodotti come maschere prodotti come oli vengono di tutti i tipi va bene e solitamente li trovate sotto le scritte di meticone di meticonolo amo di meticone sono tutti dei nomi inci che potreste ritrovare se vedete una scritta di meticonolo sapete che c'è un silicone all'interno e poi ci sono quelli ciclici quelli ciclici vedete stesso principio silicio gruppo metile gruppo metile e ossigeno però qui le catene si chiudono e sono degli anelli ok questi sono molto più volatili cioè tendono a temperatura ambiente ad andarsene quindi servono spesso per fare prodotti molto leggeri cioè che devono rimanere molto leggeri oppure senza la sensazione di unto cioè devono essere oli asciutti creme ad alto assorbimento tocchi leggeri ok e questi li trovate come cicloesasilossano ciclopentasilossano ciclometiponi e via dicendo ce ne sono tanti va bene chiaramente perché vi ripeto un cliente con spiccata diciamo tendenza al naturale non vorrà i siliconi dentro i suoi prodotti perché i siliconi non sono biodegradabili cioè dove vanno a finire questi bei siliconi una volta che abbiamo utilizzato il prodotto e magari dopo ci laviamo i capelli vanno a finire nell'ambiente e non sono biodegradabili quindi una persona che sta attenta all'eco etico oltre che al naturale non giustamente non vorrà i siliconi ok una persona attenta al naturale non vorrà i siliconi perché sono molecole di sintesi e ci sta però dire che i siliconi fanno male questo non ci sta ok cioè dove dovete averle chiare in testa queste cose perché dovete essere pronti a rispondere a qualsiasi obiezione adesso vediamo un'altra categoria molto importante che ci farà vedere poi un'altra classe di molecole di cui avrete sicuramente sentito parlare i conservanti allora i conservanti sono non importanti importantissimi va bene spesso se ne parla bene o male insomma ultimamente molto male però si generalizza e si banalizza un po' troppo questo discorso i conservanti ci sono e ci devono essere perché altrimenti i prodotti non sarebbero fluibili cioè voi comprate un prodotto ve lo faccio l'esempio sull'alimentare voi comprate il latte fresco e il latte pastorizzato vi dura lo stesso tempo assolutamente no uno dura dei mesi l'altro dura dei giorni allora dipende che cosa volete fare se voi dovete fare una piccola scorta e avete idea di utilizzarlo nell'arco di due o tre mesi non potete comprare il latte fresco perché al momento che arrivate a usarlo è già andato a male stessa cosa vale per i prodotti cosmetici si presuppone che un prodotto cosmetico non lo si usi nell'arco di una settimana e soprattutto dal momento in cui viene prodotto al momento in cui viene utilizzato può passare anche un anno ok nella catena di distribuzione e dal momento che viene utilizzato dopo magari un anno voi ci mettete due mesi a utilizzarlo quindi a prodotto aperto cioè il prodotto si deve poter conservare altrimenti non è fruibile dal consumatore va bene quindi i conservanti sono sostanze naturali o di sintesi che vengono inserite nei cosmetici in alcuni alimenti bevande e farmaci per garantirne l'integrità e la sicurezza nel tempo preservandoli da contaminazione microbica proteggono i prodotti da batteri funghi muffe presenti nell'ambiente sulla nostra pelle dopo l'apertura i cosmetici sarebbero facilmente contaminabili soggetti a proliferazione microbica se non avessero i conservanti quindi i conservanti sono a tutela del consumatore ok chiaro poi l'eccesso non fa bene queste sostanze sono state giudicate sicure in base a studi effettuati su protocolli di stabilità e sono tutte cose che voi se aveste voglia potreste trovare leggendole nell'allegato 5 del regolamento 12-23 del 2009 dove sono elencati anche tutti i tipi di conservanti ammessi nel diciamo nel mondo cosmetico ve l'ha ribalto la cosa se un conservante è nell'allegato 5 vuol dire che è sicuro ok quindi se li trovate nei cosmetici vuol dire che sono nell'allegato 5 vuol dire che sono sicuri ok voi dovete fare diciamo è un po' una logica circolare però sappiate che è inutile dire che i parabeni fanno male e gli etossilati e il fenossetanolo fa bene allora innanzitutto se sono nell'allegato 5 sono tutti sicuri ok torniamo al concetto di sicurezza iniziale se qualcuno si è preso la briga di metterli nell'allegato 5 vuol dire che sono stati testati e considerati sicuri da lì poi a decidere quale mi piace più o meno è una scelta si torna sempre lì c'è una scelta per tutti però sappiamo che possiamo stare tranquilli che sono sicuri e chi li ha testati questi diciamo questi conservanti il comitato scientifico per la sicurezza del consumatore cioè diciamo così non sono stati testati direttamente da le aziende che li producono che hanno comunque prodotto dei test di sicurezza ma c'è un ente esterno terzo indipendente che è nato proprio per tutelare si chiama proprio comitato scientifico per la sicurezza del consumatore va bene cosa sono i parabeni i parabeni sono una classe di conservanti quindi come gli sless sono una classe di tenzio attivi i parabeni sono una classe di conservanti sono molto efficaci perché hanno un ampio spettro e recentemente dopo essere stati accusati per anni sono stati molto riabilitati perché si è visto che in realtà sono sicuri ok i parabeni distinguono l'uno dall'altro in base al radicale questo è radicale ci sono vari tipi radicale corto vedete e radicale più lungo metti il parabene ti il parabene ne proprio il parabene muti il parabene esuti il parabene e per dirla in maniera più semplice chiamiamoli tutti i parabeni va bene però quelli che sono stati considerati spesso più sotto accusa sono quelli a catena corta quindi anche qui non sarebbe giusto fare di tutto un erbo a un fascio cioè non si può dire i parabeni fanno bene fanno male ma bisogna vedere quali parabeni possono fare bene e quali possono fare male allora in realtà ripeto sono sicuri però sono stati soggetti a pubblicità ingannevoli come questa che circolava nel 2002 e adesso sono tutte cose che non non verrebbero assolutamente ammesse va bene perché si pensava che i parabeni fossero legati all'insorgenza del cancro alla mammella in realtà poi non ci sono stati studi che l'hanno comprovato sono cose rimaste lì praticamente dai cioè soprattutto l'uso di deodoranti roll-on per le donne si pensava si presupponeva che così una parte dei parabeni passasse la barriera dermica e andasse nel torrente circolatorio dove lì c'è un linfonodo e poi incrementasse la probabilità di insorgenza del cancro alla mammella io vi dico che è tutto come dire c'è una base scientifica su questo ragionamento ma è molto campato in aria e tant'è che sono stati assolutamente riabilitati è considerata una pubblicità ingannevole questa perché innanzitutto non passano la barriera dermica laddove anche si possa presupporre che la passino voi andatevi a vedere qual è la concentrazione dei parabeni all'interno di un cosmetico cioè in che quantità ci sono si parla dello 0,1 0,2% sulla formula e vogliamo considerare che ne possa passare un ulteriore 0,1% la barriera dermica cioè parliamo dello 0,1% dello 0,1% penso stiamo parlando del niente anche in considerazione del fatto che molti alimenti che voi mangiate contengono parabeni che vanno direttamente in contatto col tratto gastrointestinale e vengono assorbiti subito dall'organismo quindi sarà più preponderante l'azione di un ipotetico parabene che forse passa la barriera dermica in percentuali infinitesimali o magari avete mangiato una pastina del supermercato che contiene un sacco di parabeni e ve li assorbite praticamente tutti cioè vedete a volte bisogna voler andare a fondo nelle notizie perché spesso c'è molto di più non esistono evidenze scientifiche che mettono in correlazione diretta la presenza di parabeni cosmetici con l'inserogenza dei tumori al seno poi da qui vogliamo andare ulteriormente avanti allora i parabeni in alcuni studi abbiamo visto che sono dei perturbatori endocrini ma a delle quantità che sarebbe impossibile anche volendo introdurre nell'organismo cioè a dieci volte mille volte tanto la percentuale di parabeni che che noi possiamo ingerire di normale tra cosmetici alimenti e via dicendo ci sono delle basi degli spunti di riflessione ma detto questo tutto si ferma lì ok bene torniamo indietro siamo arrivati al secondo blocco sì ok siamo abbastanza in orario e quindi adesso Simonetta ci lancerà le domande quindi pronti per rispondere ok il meccanismo è sempre quello di prima vi diamo una pausa un po' più lunga così che potete avere modo anche di andare in bagno qui mettiamo dieci minuti sono mezzogiorno e cinque a mezzogiorno e un quarto riprendiamo ok e finiamo con il terzo blocco che è un po' più un po' più corto un po' più del genere va bene ok il sondaggio è su ci diamo appuntamento a mezzogiorno e un quarto dieci minuti per rispondere al sondaggio e fare una breve pausa ok allora ci vediamo tra poco così vediamo i nostri risultati condivido che dite io direi di sì tanto ormai perché fatto è fatto ok ecco qua i risultati le risposte allora la prima domanda esistono prodotti senza parabeni qui mi aspettavo una una diciamo una percentuale più alta però sì la risposta è sì esistono assolutamente prodotti senza parabeni vi ho detto i parabeni sono una classe di conservanti ma non sono tutti i conservanti ce ne sono tantissimi altri tipi oltre al fatto che considerate che i prodotti naturali non prevedono la presenza di parabeni quindi ci devono essere per forza delle alternative di conservanti magari di derivazione più naturale quindi la risposta è assolutamente sì non vi confondete con il fatto che i parabeni siano tutti i conservanti non è assolutamente così sono una una classe alcuni conservanti ce ne sono tantissimi altri ok poi la seconda domanda i siliconi fanno male allora anche qui diciamo fortunatamente c'è una piccola percentuale di risposte sì però la risposta esatta è no vi tolgo dal dubbio che i siliconi non fanno male perché vi ho detto dovete ricordare sempre la parola inerti i siliconi sono inerti non fanno male non fanno né bene né male in teoria hanno come unica attività riconosciuta sul sulla pelle sul capello è l'attività barriera per il resto sono prodotti cioè sono ingredienti che come dire servono al prodotto più che alla pelle o al capello però se facessero male voi partite sempre dal concetto che se un ingrediente si presume che faccia male non può essere utilizzato cioè ci sarà chi a monte ha già testato tutti gli ingredienti e se le ha se ne ha permesso l'utilizzo vuol dire che sono sicuri per la salute umana ok quindi non fanno male poi mi piacciono i prodotti con silicone mi piacciono i prodotti senza silicone preferisco non avere silicone non credo che i silicone quella è un'altra scelta ma sono ingredienti sicuri proprio per il fatto che si trovano all'interno del regolamento cioè sono diciamo così considerati nei vari allegati dove vengono elencati tutti i prodotti tutti gli ingredienti ammessi sono presenti quindi dal momento che sono presenti vuol dire che sono sicuri non fanno male ok SLES e SLS sono molecole sintetiche o naturali sono molecole come abbiamo detto prima sintetiche in realtà qui il discorso potrebbe essere più ampio infatti non mi non mi stupisco del percentuale di chi ha risposto naturali perché in realtà sono molecole sintetiche ma sono hanno una base di partenza di derivazione naturale perché si parte dall'acido laurico l'acido laurico lo si può ritrovare in molte sostanze in molte diciamo così piante anche il discorso che poi però vengono considerate molecole sintetiche perché subiscono delle trasformazioni così radicali durante il processo di di produzione che vengono anche addizionate di alcune parti queste molecole di sintesi e quindi non sono poi più considerabili naturali ecco diciamo che la partenza una parte di queste macromolecole può essere considerata naturale o di derivazione naturale ma il il finale la molecola di sodium lauret sulfate non è assolutamente naturale ok bene io direi che possiamo andare avanti e iniziare vi ribadisco il concetto se c'è qualsiasi cosa che non è chiaro o di cui volete una spiegazione migliore vi invito a scrivere sulla chat oppure alzare la mano e ci fermiamo in qualsiasi momento ok allora lasciate poi verrà controllata da Simonetta perché io mentre parlo non riesco molto a controllare la chat però insomma voi non vi preoccupate qualcuno qualcuno sicuramente ok allora passiamo al al terzo blocco adesso condivido lo schermo ok allora nella nostra terza sessione noi andremo a vedere un aspetto che molto spesso non viene molto come dire considerato ma che in realtà è molto 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 importante che è l'aspetto degli effetti i famosi effetti indesiderabili vi anticipo che non esiste al mondo un cosmetico che non abbia effetti indesiderabili su nessuno è chiaro c'è quel cosmetico o quell'ingrediente che magari hanno delle possibili effetti indesiderabili così rari da essere quasi considerati impossibili da cioè come dire che non abbiano possibilità di scatenare nessun tipo di reazione ma in realtà siamo quasi 7 miliardi sulla terra potreste trovare quella persona che ha una particolare tipologia di pelle una particolare tipologia di capello che può essere in un momento particolare per cui perché anche noi non reagiamo sempre allo stesso modo che magari ha utilizzato in maniera impropria il prodotto che magari ha utilizzato il prodotto in combinazione con altri prodotti e quindi non si possa non si può prevedere tutta la casistica detto questo si parla soprattutto anche qui usiamo i termini giusti di minimizzazione degli effetti indesiderabili allora intanto vediamo che cosa si intende per effetti indesiderabili allora gli effetti indesiderabili sono definiti come reazioni avverse per la salute umana attribuibili alle ragionevoli alle normali ragionevolmente prevedibili condizioni di uso di un prodotto cosmetico mi fermo subito che cosa significa questo che voi dovete calcolare che una reazione avversa deve essere relazionata al modo di utilizzo dello stesso prodotto perché se voi mangiate e vi dico che succede cioè per quanto possa sembrare impossibile può anche succedere o bevete ingerite in qualche modo un prodotto cosmetico oggi sono talmente sicuri che magari non morite però di sicuro non è che vi fanno stare bene provate a vervi un bel sorso di uno shampoo può darsi che vi portano all'ospedale con una bella lavanda gastrica risolviamo tutto oppure aspettiamo un po' un po' di mal di stomaco riusciamo a liberarci però magari ecco non si arriva all'effetto morte che è sembra insomma sembrano argomenti un po' dettisi però è una reazione avversa che anche la morte estrema ma lo è oggi i prodotti sono talmente sicuri ho detto che certe tipologie di reazioni sono praticamente ormai azzerate ma il tutto va comunque visto in relazione a come si utilizzano i prodotti cioè vanno utilizzati per l'uso per cui sono previsti detto questo questi sono gli effetti indesiderabili gli effetti indesiderabili gravi invece sono definiti come effetti indesiderabili che indicano incapacità funzionale temporanea o permanente disabilità ospedalizzazione anomalie congenite rischi mortali immediati o decesso cioè si può arrivare anche a questo e vi assicuro che per quanto rari è successo anche questo dopo magari ve lo dico ve lo faccio un esempio allora le reazioni avverse possono manifestarsi come irritazioni rossori pruriti desquamazioni vescicolazioni allergie ezemi dermatiti eccetera 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 ci sono mille tipologie di reazioni avverse è praticamente impossibile creare prodotti completamente immuni da questo tipo di reazioni perché le tipologie di pelle degli stati fisiologici spesso determinati da componenti temporanee come stress o contatto con altre sostanze o alimentazione o altre tipologie di variabili determinano una casistica pressoché infinita di possibili reazioni quello che si può fare è ridurre al minimo questo rischio quindi ricordatevi che quando parlate di questi argomenti voi parlate di minimizzazione del rischio come vi ho detto ci sono tanti fattori che possono influire sulle reazioni avverse compreso anche non solo la natura genetica diciamo di quello che siamo ma anche dei momenti particolari di vita che possono essere le stagioni della vita cioè io da giovane non potevo spalmarmi qualsiasi cosa ora magari che sono un po' più vecchio devo stare attento a cosa mi spalmo perché alcune cose mi danno noia e può essere assolutamente come ci sono dei momenti di vita anche molto più brevi cioè se io sto passando un fortissimo periodo di stress può darsi che la mia cute e i miei capelli reagiscano molto diversamente a determinati prodotti a determinati trattamenti quindi quello che magari oggi mi dà noia magari fra sei mesi che sono più tranquillo la mia cute è più rilassata e tutto posso cominciare ad usarlo questo vi sarà successo anche in salone magari so una cliente che usa regolarmente una tipologia di prodotto sulla quale siete abituati ad applicare determinati prodotti arriva il giorno che dice mi sta dando noia mi sta bruciando la cute cioè non vi impressionate può succedere perché magari la cliente in quel periodo non lo so è a dieta e sta l'organismo sta reagendo in maniera diversa o è particolarmente stressata oppure magari ha fatto non so un trattamento chemioterapico sapete quanto altera la fisiologia e la sensibilità della pelle una chemioterapia cioè ci sono dei prodotti addirittura oggi stanno studiando c'è un tutta una piccola branca della cosmesi che si chiama oncocosmesi cioè dei prodotti studiati per eliminare gli effetti indesiderabili durante chemioterapie o post chemioterapie cioè dei pazienti trattati con chemioterapie cioè ci sono delle casistiche direi quasi infinite ok allora diciamo così vediamo adesso un po' più nel dettaglio quali e a chi e chi colpiscono queste reazioni avverse allora io mi metto su un grafichetto così che insomma vi potete un po' rendere conto perché la categoria dei parrucchieri la categoria dell'hairstyle è una categoria di quelle particolarmente soggetta a diciamo ad entrare in contatto con reazioni avverse per ovvi motivi va bene allora qui vediamo le principali categorie di cosmetici potenzialmente coinvolte negli effetti indesiderabili voi vedete questo grafico a torta che vi dice che la maggior parte delle reazioni avverse le si registrano nei prodotti per il corpo poi in seconda battuta i prodotti per il viso e dopo abbiamo in terza battuta una cosa che vi riguarda molto da vicino che sono le tinture per capelli allora perché vi ho messo questi numeri poi dopo ci sono le protezioni solari gli struccanti e i contornocchi perché la percentuale di reazioni avverse che si possono registrare dipende innanzitutto dalla diffusione del prodotto cioè secondo voi è più facile che una persona usi durante mettiamo l'arco di un mese usi più volte un prodotto per il viso per il corpo o una tintura per capelli chiaramente va da sé che l'utilizzo di un prodotto per il viso per il corpo è assolutamente è infinitamente superiore a una tintura per capelli una tintura me la posso fare magari una volta in un mese un prodotto per il corpo per i capelli li uso quotidianamente anche più volte al giorno perché i prodotti per il corpo sono per esempio anche prodotti che usiamo nella doccia non è che deve essere oppure un profumo un deodorante per il viso non ne parliamo creme per il viso make up saponi di tutto e di più ok allora detto questo però troviamo le tinture per capelli in terza posizione nonostante siano dei prodotti diciamo così fra virgolette molto poco usati nella nella frequenza ok però le tinture per capelli sono prodotti che in realtà sono fra i più pericolosi per quanto riguarda le reazioni avverse ecco perché si preferisce e si tende ad andare a farli in salone cioè sotto l'occhio esperto e la mano esperta di un operatore che deve essere bravo chiaramente perché perché sono prodotti cioè per quanto riguarda diciamo così tutto quello che è il colore il mondo del colore che vanno utilizzati in maniera molto attenta perché possono provocare potenzialmente delle reazioni avverse anche gravi quindi vedete la discrepanza è che i prodotti per il corpo e per il viso magari sono meno pericolosi ma sono molto più usati i prodotti per le tinture per capelli per il colore sono molto poco usati nel quotidiano ma sono potenzialmente molto più pericolosi ecco i contornocchi per esempio sono un'altra categoria tra le meno usate ok i prodotti specifici per il contornocchi sono molto poco usati ci sono poche persone che hanno voglia di usare anche il contornocchi però siamo intorno all'occhio che è una zona ipersensibile a tutto cioè la pelle del contornocchi è molto più sottile delle altre zone poi siamo vicini proprio all'occhio quindi i prodotti per il contornocchi per esempio meglio se non contengono profumazioni perché le stesse esalazioni potrebbero andare a colpire il bulbo oculare insomma sono prodotti i contornocchi potenzialmente non molto pericolosi ma agiscono per esempio su una zona che forse è la più sensibile per quanto ci riguarda ecco ci sono varie motivazioni per cui i prodotti possono diciamo così popolare questa classifica vi ho detto fra forse i più pericolosi fra virgolette potenzialmente più irritativi ci sono le tinture ripeto questo però da un lato gioca a favore del professionista del capello perché il consumatore attento il consumatore che vuole stare tranquillo e che vuole avere un buon risultato preferisce di gran lunga andare a farselo in salone che non farselo a casa ok quest'altro grafico invece ci fa vedere tipologia e localizzazione degli effetti indesiderabili allora qui noi vediamo dove cioè in che distretto corporeo abbiamo la maggior parte degli effetti indesiderabili ok voi vedete al primo posto c'è abbastanza in maniera come dire scontata il viso perché perché è il distretto su cui applichiamo la maggior parte dei prodotti e non è una zona a bassa sensibilità è comunque una zona ad alta sensibilità come vi ho detto le palpebre quindi la zona del contorno occhi in generale perché è la zona più sensibile su cui agire direi allo stesso pari ci può essere la zona dei genitali esterni soprattutto femminili ci può essere al limite la bucosa buccale però la zona del contorno occhi è veramente per chi va a formulare prodotti per il contorno occhi ci sono mille attenzioni da da tenere presente e poi arriviamo al cuoio capelluto anche qui siamo in alta classifica cioè il cuoio capelluto la cute ok è una zona di pelle molto particolare cioè nonostante che la si chiami cute e con cute io posso intendere in maniera generica tutta la pelle perché la pelle della mia mano è cute ok però si tende ad identificare soprattutto il cuoio capelluto perché è una zona che ripeto nonostante sia in continuità con tutto il resto della pelle ha una fisiologia molto molto particolare e molto molto diversa proprio perché diciamo c'è una l'impianto proprio e la frequenza con cui sono impiantati i capelli determinano una struttura molto particolare soprattutto al di sotto c'è un'altissima concentrazione di ghiandole sebace è una zona che io mi riferisco a cute diciamo così abbastanza normale cioè non viene esposta al sole quindi sarà molto più da proteggere dal punto di vista dell'irradiazione i capelli servono anche a questo ripeto una persona completamente calva completamente rasata altera questa questa questo stato questa situazione quindi rappresenta già un'eccezione ma io vi parlo in generale dell'acute diciamo così normale è un'acute che non si espone ai raggi solari quindi ha una tendenza a essere molto più bianca è una parte di pelle molto più bianca essendo molto più bianca è molto più a rischio cioè l'irradiazione solare a creare una scottatura sulla cute è un attimo magari le nostre spalle che sono sempre o più o meno sempre esposte al sole quando andiamo al mare infatti sono la zona che ci proteggiamo un po' di più perché i raggi solari sulle spalle arrivano arrivano continuamente ecco sulla cute tutto ciò non succede va bene quando noi ci esponiamo basta poco che la cute sia rossa perché non c'è una stimolazione di produzione della melanina e già questo rappresenta una grossa eccezione per quanto riguarda il nostro organismo poi vi ho detto altissima concentrazione di ghiandole sebacee in questo distretto la desquamazione della cute è molto diversa dalla desquamazione di altri distretti corporei vi basti pensare alla forfora per esempio la forfora è un fenomeno che non avviene in altre parti del corpo ci sono vari motivi la cute è uno di quei distretti corporei da prendere come dire con prodotti specifici perché ha una fisiologia una morfologia molto specifica poi labbra pollo arti inferiori braccia congiuntiva e guance siamo come vedete una classifica che ci fa capire come perché vi ho messo queste due tipologie di grafico perché vi volevo far capire innanzitutto quali sono i prodotti che tendenzialmente provano più reazioni avverse e poi dove insorgono principalmente le reazioni avverse in entrambi i casi voi siete come operatori a contatto sia con prodotti che con distretti corporei ad alto potenziale di sensibilizzazione ok quindi ecco questo per dirvi non vi dovete spaventare ma dovete essere consapevoli che la vostra professionalità serve per tutelare il consumatore in aree e nell'utilizzo di prodotti che potenzialmente possono essere molto sensibilizzati va bene allora perché i prodotti per capelli sono tra i maggiori sensibilizzanti vediamolo un attimo e mi riferisco non proprio a tutti tutti i prodotti per capelli è chiaro che un balsamo difficilmente sensibilizzerà o darà una reazione avversa però ci si riferisce principalmente a un'idea delle tinture per capelli che hanno tutto un meccanismo in cui io non entro assolutamente perché avete i vostri professionisti del colore che vi sanno dare delle informazioni molto migliori di quelle che vi darei io però ci sono dei passaggi che prevedono decolorazioni che prevedono l'utilizzo di calore e il calore abbinata con molecole con sostanze chimiche sviluppa delle reazioni dovete essere come dire attenti e bravi anche solitamente si parla di reazioni irritative lievi va bene risolvibili con la rimozione del prodotto e il lavaggio con acqua cosa significa che spesso magari si può avere un'irritazione non andate nel panico spesso si risolve semplicemente togliendo la gente che in quel momento è irritante con una rimozione con semplice acqua a tempo qualche minuto l'arrossamento se ne va e finisce cioè questa è la maggior parte delle reazioni ok i prodotti per capelli soprattutto per uso professionale devono garantire determinate performance e spesso prevedono l'uso di tensioattivi ad alto pH quindi lavano bene ma tendono a creare secchezza cutanea del capello il discorso che facevamo prima per esempio prodotti con sless lavano molto bene e noi abbiamo bisogno di lavare bene il capello per poterlo poi lavorare però va usato con prodotti di alta qualità quindi che siano bilanciati bene nella formula e soprattutto nella giusta declinazione cioè se sappiamo di avere davanti un cliente che utilizza spesso e con lavaggi molto frequenti uno va in palestra tutti i giorni si lava continuamente magari tende a seccare un po' il capello magari possiamo utilizzare un prodotto con una declinazione più delicata oppure una persona che magari una grossa cute grassa che magari non fa neanche lavaggi troppo frequenti abbiamo bisogno di lavorare il capello e di pulirlo bene allora possiamo utilizzare per una volta il prodotto che ha un potere lavante molto più alto ecco questo fa parte del vostro lavoro lo dovete saper fare balsami con oli siliconici anche qui diciamo che come vi ho detto prima la frequenza di uso di siliconi può determinare in alcuni soggetti una tendenza alla secchezza perché? perché l'effetto barriera non fa entrare ma non fa neanche interagire con l'esterno quindi lo scambio può diventare più un pochino più difficoltoso detto questo l'uso di siliconi è totalmente sicuro ma come il lavaggio frequente cioè uso uno shampoo per lavaggi frequenti che sicuramente avrà un'attenzione diversa sulla delicatezza sarà più bilanciato verso il delicato tanto lavo spesso vuol dire che non ho da rimuovere chissà quale sporco ok la stessa cosa sui siliconi se uso faccio un uso smodato di prodotti siliconici magari anche che ne so cioè di bassa qualità cioè dove sono tutti siliconi cioè può darsi che il risultato a lungo andare ma molto molto lungo sia notare una tendenza alla secchezza cutanea capite cioè spesso non è il cosa si usa ma è il come si usa che fa la differenza va bene poi arriviamo a tinture contenenti ammoniaca parafenidiammina ppd agenti ossidanti come acqua ossigenata tutte sostanze potenzialmente irritanti in grado di scatenare sia DIC ovvero dermatite irritativa da contatto che DAC dermatite allergica da contatto allora queste sono sicuramente sostanze che hanno un potenziale irritativo molto più alto di quelle che abbiamo visto c'è siliconi tensio attivi aggressivi e quant'altro queste cioè se usate pure cioè se usate così in maniera senza criterio queste creano veramente possono dare delle belle irritazioni anche anche in maniera abbastanza istantanea ok detto questo se usate in prodotti ben bilanciati e con un operatore che sa quello che fa stiamo tranquilli va bene le DIC è l'acronimo di dermatite irritativa da contatto cioè un arrossamento un prurito una piccola reazione dovuta al contatto con una sostanza come la si risolve molto spesso un po' d'acqua laviamo togliamo il contatto se ne dovrebbe andare in tempi molto brevi anche l'irritazione va bene la DAC dermatite allergica da contatto invece scatena non un'irritazione ma un'allergia dovuta al contatto e questo molto spesso rappresenta una reazione avversa grave o meglio può essere piccola e localizzata oppure dare problemi un po' più diffusi perché proprio perché si va a scatenare un'allergia ora questo spesso non dipende diciamo così dall'operatore perché se c'è un'allergia di cui magari il nostro cliente non è neanche a conoscenza che entra in contatto con un certo tipo di sostanza e la reazione allergica si scatena voi non potete saperlo a priori cioè o il cliente vi informa e vi dice io guardate sono allergica a non lo so ai siliconi ora no i siliconi in realtà non ci sono allergie per esempio allergie a lattici ecco guarda questo è un esempio che è venuto fuori tempo fa con un'operatrice allergia al lattice e voi magari state operando state facendo le vostre operazioni di lavaggio con dei guanti come spesso succede no oppure state applicando il colore con dei guanti e sono di lattice allora in questo caso magari mille volte è andata bene perché quel poco lattice che entra in contatto con la cute del nostro cliente non ha scatenato reazioni siamo tranquilli non ci abbiamo neanche mai pensato però una mattina magari si fa un colore diverso ci sono alcune sostanze che già sensibilizzano la cute e la rendano particolarmente come dire irritata tipo per esempio acqua ossigenata oppure parafenidiammina la cute in quel momento è ipersensibile entra in contatto con il guanto di lattice dell'operatore e si scatena una reazione allergica che a quel punto può diventare insomma può far paura no poi anche lì non succede niente nei casi più gravi le portate a pronto soccorso gli dite di andare e con un antistaminico si risolve tutto però ecco detto questo ci possono essere delle casistiche così strane che magari uno neanche ci pensa ma per quanto riguarda lo scatenare la reazione allergica ecco voi a priori non potete saperlo potete usare prodotti come dire sempre migliori in cui la ricerca ha cercato di eliminare più possibile la possibilità di dare reazioni allergie però arrivare al prodotto analergico è impossibile non esiste ok ecco il massimo che potete fare è usare prodotti di alta qualità dove sapete che dietro c'è stata una ricerca molto attenta da questo punto di vista allora detto questo voi non andate nel panico ma come detto prendete le dovute accortezze nel momento in cui dovesse succedere qualcosa allora vi do l'ultima informazione DIC sta per dermatite irritativa da contatto e possono essere molto fastidiose e difficili da trattare ma si tratta di fenomeni temporanei destinati a risolversi nella maggior parte dei casi con brevi cure le dermatite allergiche da contatto invece sono fenomeni di tipo allergico e prevedono una risposta al sistema immunitario potenzialmente possono essere molto gravi potenzialmente in rari casi se non trattate nel modo giusto possono causare anche la morte il famoso shock anafilattico ok irritazioni non coinvolgono il sistema immunitario allergie coinvolgono il sistema immunitario ok quest'ultima parte come ho detto era un po' più breve abbiamo concluso e adesso Simonetta ci lancia l'ultimo sondaggio che sarà breve come gli altri due e poi discutiamo al volo le risposte siamo arrivati un po' più lunghi come avevamo previsto però insomma 5 minuti e poi abbiamo concluso ecco il sondaggio allora i risultati eccoli qua allora noi abbiamo le reazioni avverse colpiscono solo i clienti o anche gli operatori chiaramente la risposta giusta è entrambi perché anzi vi dirò di più che gli operatori sono i più soggetti chiaramente perché sono i più esposti nel senso che dalla mattina alla sera 5 giorni su 7 o 6 giorni su 7 o 7 su 7 sono esposti utilizzando appunto i prodotti quindi l'importante di questa domanda era che io volevo far passare un messaggio avete degli strumenti per proteggervi sia per miscelare le sostanze soprattutto i coloranti sia per proteggere le mani e a volte anche gli occhi servirebbero però quindi mettetevi guanti utilizzate pennelli utilizzate le spatoline evitate il contatto continuo con i prodotti nelle mani perché oggi non vi danno noia ma magari dopo un anno due anni dieci anni magari non riuscite più a toccare un cosmetico perché siete assolutamente diventati allergici e questo succede molto spesso per quanto riguarda i clienti li fa parte del numero c'è molti più clienti quando ci sono tantissimi clienti è chiaro che può capitare che ci siano più reazioni avverse però in ambito di frequenza di contatto gli operatori sono assolutamente i più esposti e i più a rischio le reazioni irritative prevede una risposta immunitaria e questa era difficile era la domanda più difficoltosa la risposta la reazione irritativa non prevede risposta immunitaria cioè un'irritazione non coinvolge il sistema immunitario un'allergia coinvolge il sistema immunitario ecco perché può diventare tendenzialmente più grave va bene ricordatevi se non c'è un'allergia a una sostanza o un'altra voi avete una semplice irritazione che può essere risolta nel breve se avete un'allergia il problema diventa più complicato però voi a priori non potete saperlo esistono ingredienti analergici in realtà questa poteva essere una domanda tra bocchetto infatti vedo che comunque c'è stato chi ha risposto bene allora la risposta è sì esistono ingredienti analergici non esistono cosmetici analergici perché questo perché non esistono cosmetici fatti da un ingrediente solo e solitamente gli ingredienti analergici sono sintetici cioè i siliconi non danno allergie ma io se faccio un se mi spalma un vasetto un barattolo d'olio di silicone poi sono lubrificato come il motore di una macchina va bene quindi è assolutamente sgradevole e non serve a niente però non mi darà allergia cosmetici invece che sono costituiti anche da uno due tre quattro ingredienti cioè da qualsiasi cosa che in realtà completamente analergici non possono essere quindi alcuni pochissimi ingredienti esistono analergici non esistono cosmetici analergici questo è il motivo per cui il claim analergico è vietato dalla legge non si può scrivere non si può vantarlo perché non si può saperlo quindi Tommaso quest'ultima parte importantissima come tutte le altre parti ma questa parte ci fa veramente trasmettere quello che i prodotti sono sicuri perché giustamente sono testati ma quanto è importante utilizzare un protocollo all'interno del salone perché questo ci permette di avere più sicurezza no? Quindi voglio dire la... io ho conosciuto più volte purtroppo non solo nel mondo dei parrucchieri ma anche il mondo dell'estetista per esempio anche giovani ragazzi che hanno dovuto abbandonare la professione perché non erano più in grado di maneggiare prodotti provate mille soluzioni ma io do sempre il consiglio di non veramente di non di non sottovalutare il fatto che oggi non mi fa niente ma alla lunga la nostra pelle a forza di entrare in contatto con una sostanza che alla fine la tollero ma non è che mi dà noia arrivi a un punto che la pelle non la tollera più quindi a 50 anni si potrebbe dover cambiare lavoro perché siamo diventati super allergici a tutto mentre a 20 anni non ci dava noia niente questo ci sta quindi tuteliamoci noi e tuteliamo i nostri clienti giustamente questo è molto importante mi rendo conto che a volte è una palla dover utilizzare tutti i dispositivi però aiuta nel momento che usiamo anche i prodotti comunque a base ammoniacale è fondamentale comunque un'attenzione anche perché se facciamo attenzione non succede nulla no proprio perché i prodotti sono sicuri esatto esatto usati nel modo giusto voi state tranquilli bene io vi invito a fare domande in chat se avete qualche dubbio qualche precisazione e se non ci sono poi ci ci salutiamo passiamo qualche minuto se eventualmente c'è qualcuno che voglia di fare qualche altra domanda sembra di no ti stanno ringraziando Tommaso ok io la chat a volte me la tolgo perché quando la tenevo davanti mi distraeva certo bene allora non ci sono domande io direi che sicuramente intanto ringraziamo voi per essere stati con noi tutta questa bella mattinata dove Tommaso ci ha informati e dato delle notizie delle ha dato veramente delle informazioni da poter condividere anche con le nostre clienti che fondamentalmente è la cosa più importante essere sempre comunque molto informati per poter dimostrare alle nostre clienti quello che facciamo quindi anche il nostro impegno quindi grazie mille a Tommaso Sansoni per qualsiasi cosa noi siamo qua ringrazio Rosi che è stata con noi questa mattinata e a questo punto direi grazie a tutti ci vediamo al prossimo webinar alla prossima puntata buona buona giornata e buon lunedì grazie a tutti ciao buongiorno a tutti ciao grazie a tutti Grazie a tutti